È una ragazza di 25 anni, la persona che domenica tra le 5 e le 6 del mattino alla guida di una smart sulla strada statale 155 tra Tecchiena e Dalatri ha travolto ed ucciso Daniele Stirpe di 47 anni, pasticcere di Frosinone. La 25enne ha investito la vittima mentre stava raggiungendo la sua automobile dopo aver fatto colazione al Baranna insieme allo zio. Lo zio 63enne è stato ricoverato all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone in codice rosso per il 47enne pasticcere, invece non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. A dare l'allarme è stato il barista che rendendosi conto della gravità della situazione ha subito chiamato il 118, sul posto sono immediatamente giunti gli uomini del personale medico che hanno subito o constatato che per Daniele Stirpe non c'era più nulla da fare. Lo zio invece è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone. Sul luogo dell'incidente è giunta anche una pattuglia della polizia stradale per effettuare i rilievi mentre altri agenti si mettevano alla ricerca dell'auto pirata. Ricerca durata poco in quanto gli uomini della stradale sono stati avvertiti dai carabinieri che la ragazza se l'ha costituita presso di loro. La giovane dopo l'impatto non si è fermata e indagata per omicidio stradale. È stato sfortunato il ragazzo, si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Ognuno è responsabile delle proprie azioni. La ragazza è stata sfortunata che ha preso questo ragazzo. Niente che dire, purtroppo capitano tutti i giorni queste cose. È capitato qua davanti al bar. Ha soccorso lo zio perché lui era morto sul colpo. Stava in mezzo alla strada, stava nella parte del parcheggio. Ripeto, è stato sfortunato che si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato. La conoscevo, si. Si fermava tutte le domeniche mattine, sabato mattina.